Eccoci qua nuovamente, sempre con la mascherina e con gli occhiali. La prossima volta che mi vedrete finito il Covid, manterrò la mascherina, solo che mi metto quella di zorro, così farò contento con il cuore, dicendo, ma sempre con la mascherina, sì, sempre con la mascherina, perché io la porto, fino a quando non finirà questa emergenza, punto. Allora, oggi parliamo del più grande di tutti, il mitico Frank Zappa. Perché? Per due motivi principali. Il primo, lui è stato il vero genio della musica, il vero genio, non c'è stato nessun altro più grande di lui, almeno secondo me. Secondo motivo è perché, voi magari non lo sapete, la maggior parte dei dischi che si trovano originali nelle bancarelle, nei negozi, dove volete, sono tutti falsi. Sì, il 95% di quello che viene proposto come stampo originali sono tutte false, tutte patacche, tutte da prendere a calci. Allora, oggi parliamo di Zotta Duris perché è un disco che io adoro in maniera particolare e la qualità audio di questo nuovo di stampo uscite per Universal è fantastica. Forse a livello dei Genesis, di cui abbiamo già parlato diverse volte, perché ho ottenuto il master che abbiamo utilizzato per questi vinili, è l'originale analogico dell'epoca. Per cui, io ve li straconsiglio tutti. Uno da volato, la Zotta Duris, Absolutly Free, a questo remata di Benchon, a Ruben del Jets, sono tutti fantastici. Ed oggi, clamorosamente Godic, arriverà anche il mitico Hot Rats in offertissima, in offertissima. Ragazzi, se volete prendere dei vinili spettacolari di French Zappa, dovete prendere solamente queste di stampe. nessun altro, a meno che vogliate prendere una fregatura o magari c'è una ripresa.